A distanza di qualche settimana dall'elezione per acclamazione a Presidente e Vice Presidente della Comunità del Parco, Salvatore Iannuzzi ed Eros Lamaida hanno voluto ringraziare con una lettera aperta il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della provincia, Giuseppe Canfora, e gli 80 sindaci dei comuni rientranti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un voto alle persone, agli uomini, un voto a quello che siamo, o speriamo di essere, un voto di stima, dichiarano i neoletti nella loro lettera. Per questo, grazie di vero cuore. Le priorità da affrontare subito, secondo i rappresentanti della Comunità del Parco, sono essenzialmente tre. L'eccesso di tassazione e la capacità di far crescere, attrarre e mantenere i talenti. Per questi motivi Iannuzzi e Lamaida utilizzano all'interno del loro messaggio di ringraziamento il termine svolta storica. La vera sfida, continuano i due, è quella di rendere il parco ancora più vicino e attento all'ambiente e alla natura. Un parco che diventi realmente volano di sviluppo economico, sociale e culturale della sua terra e che ne rilanci nei fatti la crescita a 360 gradi senza lasciare nessuno indietro.